Domenica 16 gennaio 2022 vi parlo dalla sede del circolo amatori arti figurative Il Ghibellino in piazza dei Leoni a Empoli dove in corso l'inaugurazione della mostra luoghi mediterranei del maestro Salvatore Magazzini lo rincontriamo il maestro Pistoiese a distanza di poche settimane dopo il grande successo conseguito nei giorni del Natale 2021 nella sala del basolato del comune di Fiesole dove tantissimi fiorentini e non solo fiorentini anche se per via del Covid non ci sono tanti turisti a Firenze ma quei pochi che c'erano ovviamente sono andati a Fiesole come usano fare tutti i turisti che visitano Firenze non hanno perso l'occasione di visitare questa bellissima mostra che oggi viene riproposta con le medesime tematiche in uno dei luoghi di culto dell'arte in Toscana infatti il circolo Ghibellino pochi anni fa ha festeggiato i 60 anni in interrotti di attività e in questi 60 anni ovviamente in queste sale hanno esposto i maggiori artisti di espressione del territorio della regione toscana casualmente il maestro Magazzini ha portato un cimelio perché ci ricorda che esattamente 32 anni fa dal 14 al 29 gennaio 1989 lui espose proprio qua al Ghibellino quindi un ritorno dopo 32 anni ovviamente con alle spalle una lunghissima carriera espositiva che lo ha fatto diventare lo hanno detto alcune statistiche uscite in questi giorni uno degli artisti del 900 toscano più presenti nelle case della nostra regione insieme al grande Loffredo insieme a Dino Migliorini insieme a Bueno insieme a Vinicio Berti ovviamente questi pittori sono stati non solo rispettati e ben descritti nel loro itinerario artistico dalla critica ma soprattutto sono stati amati dal pubblico toscano e fra i collezionisti che si trovano in tutta la Toscana questi artisti sono presenti anche nelle case non degli addetti a lavori ma delle persone comuni che amano mettere alle pareti delle proprie case delle opere di grande spessore ma soprattutto di grande conforto come lo sono queste opere in un periodo difficilissimo qual è la pandemia che stiamo vivendo in questo momento e che attraverso queste opere possiamo dimenticare per qualche ora come un transfert che ci porta in altri luoghi del nostro mediterraneo luoghi dove sorride il sole dove c'è il mare e quindi lontani anche dai paesaggi psicologici che viviamo in questi giorni lascio la parola al maestro magazzini per presentare ai nostri telespettatori la mostra ovviamente per invitarli a venire a visitarla questa mostra mi è cara perché mi ricorda un po' la vecchia mostra che feci 33 anni fa allora ragazzino e mi ricordo l'emozione insomma di disporre in quest'ambiente l'emozione c'è ancora perché la mia voglia di disporre insomma c'è sempre ecco però mi è particolarmente cara i soggetti sono un po' non dico gli stessi di fiesole perché c'è delle cose nuove però ricalca un po' quel tema dei paesaggi mediterranei ecco Salvatore come ho detto poco fa in apertura di servizio tu sei uno degli artisti che il pubblico toscano ha più amato negli ultimi 50 anni ecco che effetto ti fa sapere che nelle case c'è una tua opera soprattutto in questi periodi bui che dà conforto a chi magari la sera si siede su una poltrona e sta a guardare un tuo quadro immaginandosi tempi migliori e luoghi magari più soleggiati più confortevoli più rilassanti di quelli magari che ci accolgono nel chiuso delle nostre case in questi periodi bui è una grandissima soddisfazione perché essere un pittore popolare con un'accezione positiva in cui sì piaccio ai critici piaccio agli addetti ma sapere insomma che sono diffuso che anche diciamo così è una pittura popolare non la ritengo un limite ma anzi la ritengo un pregio e nella crescita di questo pubblico che ti segue e ti ha seguito negli anni c'è anche il rapporto particolare che tu intrattieni con ognuno dei tuoi collezionisti sia chi ha una sola tua opera in casa sia i grandi collezionisti che ne hanno molte perché hai sempre tesso a stabilire un contatto amichevole un'empatia con chi compra i tuoi quadri l'ha visto un po' come una persona che vuole bene a te volendo bene ai tuoi quadri esplicitamente e implicitamente dimostra di voler bene anche alla persona che sei che poi si rispecchia almeno per chi ti conosce bene come ti conosco io la tua personalità si rispecchia molto nella serenità dei tuoi quadri sì è una soddisfazione appunto avere sapere che queste persone hanno nelle loro case questi miei dipinti poi la conoscenza diretta perché? perché molti dei quadri che vendono sono venduti direttamente e quindi nelle mostre e quindi c'è un rapporto diretto con questi cosiddetti clienti ma non sono clienti però non è che sia un discorso riservato a chi compra i miei quadri ma anche queste indole della curiosità di conoscere le persone, di avere dei rapporti ce l'ho a prescindere il discorso lavoro è che è una curiosità mia di avere rapporti con le persone concludiamo il servizio da Empoli con il professor Silvano Salvadori presidente del circolo Ghibellino che inviterà come abbiamo già fatto in precedenza noi e come ha fatto anche il maestro Salvatore Magazzini i nostri telespettatori a venire a visitare questa mostra ovviamente ci ricorderà gli orari d'apertura, i giorni d'apertura e soprattutto che l'ingresso è libero e venendo a visitare la mostra c'è la possibilità di visitare anche l'attiguo museo di paleontologia e quindi può essere un valore aggiunto importante per chi viene a visitare Empoli vi ricordo che la sede del circolo Ghibellino è in piazza del Duomo la cosiddetta piazza dei leoni mutuata dalla scultura che si trova al centro le sculture dei leoni che si trovano al centro della piazza lascio la parola al professor Salvadori per la presentazione della mostra e per l'invito ovviamente ai nostri telespettatori allora questa mostra la ospitiamo nella nostra sede che è il palazzo Ghibellino di Empoli famoso per aver ospitato la difesa di Firenze da parte di Farinata degli Uberti e teniamo volentieri questa inaugurazione di uno spittore che viene da Pistoia e fra l'altro parlando l'altro giorno con lui proprio ricordavo che mentre io iniziavo a insegnare a Pistoia lui era ancora studente uno studente un po' birbante mi ha detto perché in occasione di un esame in un qualche modo buttò un po' le carte all'aria e preferì, benché avesse avuto una buona valutazione, preferì ripetere l'anno da allora ha detto ho campato per tutta la vita soltanto di pittura il che è una cosa veramente rara in un qualche modo quindi questo testimonia la voglia l'impegno di vivere della propria arte e le opere qui esposte ne danno una bella prova mi sembra che oltre alle solite tematiche eccetera Magazzini sceglie delle serie diciamo di opere come questa vi che si intitola appunto luoghi mediterranei dovuti proprio alla sua passione per dipingere che l'ha portato proprio a visitare il Marocco, a visitare la Tunisia, a visitare la Libia e di queste atmosfere luminose in un qualche modo sa rendere in un qualche modo proprio lo spirito in un qualche modo c'è anche un video che dimostra, vedo la sua tecnica vedo molte pubblicazioni che lui ha fatto quindi direi un'attività molto intensa che volentieri appunto ospitiamo via Empoli la mostra è aperta tutti i giorni escluso il lunedì dalle 4 alle 7 e dura fino al 30 gennaio Grazie a tutti